la manutenzione preditiva che cosa significa quali sono davvero i benefici in quali settori non pensate soltanto ai grandi stabilimenti industriali dalle reti alla domotica ci sono applicazioni che ci riguardano molto da vicino e ce lo spiegheranno e ci aiuteranno a capire che cosa è quella è la vera portata della manutenzione preditiva e interpretare anche il linguaggio che c'è dietro questa tecnologia quattro ospiti molto esperti ve li presento subito inizio con Danilo Moresco che è responsabile di ABB Power Generation in Water in Sud Europa benvenuto a Cantaluce Fabio Moioli direttore della divisione Enterprise Services di Microsoft Italia grazie mille buonasera Giulia Baccarina cofondettore di Mipu e managing director di iCare benvenuta e Luca Fumagalli ricercatore del Politecnico di Milano dove è responsabile anche dell'osservatorio tecnologie e servizi per la manutenzione preditiva allora Fumagalli inizio da lei titolare dei dati della conoscenza su questo osservatorio per una definizione innanzitutto cosa si intende quando si parla di manutenzione preditiva beh si parla di quella di quell'attività di manutenzione che fa evolvere quella che è l'attività correttiva vado e riparo il macchinario o l'oggetto che si guasta passando a un'attività che invece è programmata sulla base invece di un calendario uno scadenziario fino a arrivare a programmarla sulla base dei dati sulla base dei sensori sulla base di informazioni che indicano lo stato di salute vero della macchina proprio come fa un dottore un dottore ci fa degli esami e ci indica chiaramente che cosa dobbiamo fare in sostanza lo raccontiamo da ormai quasi due anni il 4.0 al centro del 4.0 c'è la connettività il fatto che le macchine si scambiano dati si scambiano informazioni e tra queste informazioni ce ne sono tante che riguardano il loro stato di salute lei citava il dottore cioè le macchine ci fanno capire ad altre macchine e infine anche agli operatori quando hanno bisogno di un intervento è così? certo è proprio così le macchine iniziano a parlare parlano col modo con cui possono fare sostanzialmente attraverso il loro degrado attraverso i segnali che noi possiamo raccogliere con tutte le tecnologie dell'industria 4.0 e mettono a disposizione tantissime informazioni che noi dobbiamo saper interpretare per poi prendere le azioni giuste perché da questo conseguono davvero tanti benefici per l'attività produttiva detta così potrebbe essere una evoluzione di servizi per chi già fa in azienda la manutenzione qualche novità tecnologica in realtà quali sono i veri benefici che anche a chi guida le aziende in questo momento possono rappresentare dei momenti di svolta della manutenzione preditiva e perché? beh sicuramente un beneficio classico è quello di aumentare la disponibilità degli impianti produttivi e aumentare la capacità produttiva perché si possono ridurre i fermi si riducono i fermi in pianto si riducono quelle che sono le fermate ovviamente dannose perché non permettono di realizzare i prodotti per i clienti però questo lo si fa anche con una manutenzione ben regolata la predittiva ci permette di ascoltare i macchinari e quindi di curarli meglio e se possiamo curare i macchinari meglio abbiamo una migliore efficienza energetica abbiamo un miglioramento nella qualità dei prodotti e non pensiamo solo al prodotto metalmeccanico pensiamo anche al prodotto alimentare è fondamentale anche garantire la qualità di questi prodotti e la predittiva e l'ascoltare le macchine aiuta sicuramente questo quindi è proprio un modo diverso di relazionarsi con le macchine che aiuta l'efficienza riduce gli sprechi e quindi a livello di sistema degli impatti molto importanti Moresco condivide e l'abbiamo raccontata nel modo giusto questa manutenzione predittiva o no? assolutamente sì fa parte del percorso che abbiamo avviato da molto tempo per dare supporto alla trasformazione digitale dei nostri clienti c'è un investimento importante da parte del nostro gruppo su questi temi oltre il 3% del nostro fatturato che pesa circa 2 miliardi e 2 all'anno è proprio in ricerca per supportare al meglio il mercato altre due linee di investimento sono fondamentali la formazione formazione proprio su tutto il filone digitale per aziende come la nostra è fondamentale mantenere la competenza sul processo sull'automazione dei processi principali e l'aspetto poi complementare è quello proprio della parte soft della parte digitale e infine gli investimenti sulle infrastrutture infrastrutture di supporto per poter gestire anche impianti da remoto e monitorare questi impianti e quindi tutti gli aspetti legati alla manutenzione degli apparati rilevanti degli stessi la manutenzione si è sempre fatta però questo è proprio un modo diverso e molto coerente con il carattere un po' rivoluzionario del 4.0 della connettività della convergenza dicevamo tra il digitale e la manifattura tradizionale voi l'avete sempre seguita e curata qual è la principale diversità rispetto al passato che oggi introduce questa tecnologia la principale diversità è che oggi si può parlare di collaborative operation center questi centri da remoto sono davvero collaborativi vi faccio degli esempi pratici in porto a Genova abbiamo una sala controllo da cui monitoriamo 700 navi 700 navi che vengono anche supportate quindi i comandanti delle navi sono supportati dai nostri operatori ad esempio nelle rotte ottimali per gestire al meglio il consumo e anche i tempi i tempi e il collaborativo è come se fosse una torre di controllo che a distanza aiuta i comandanti di queste navi nelle loro operazioni e anche nell'avere sempre tutto sotto controllo ma non solo i comandanti mette in contatto la nave con l'armatore e con ABB e questo è un primo elemento anche per uno scambio di informazioni con tutte quelle che sono realtà che possono offrire competenza e qui anche con Microsoft abbiamo una partnership più importante proprio perché sono temi che sono alla base della condivisione delle informazioni e della gestione dei big data siamo passati dagli impianti della metalmeccanica più tradizionale siamo già arrivati alle navi sono sicuro che tra poco vedremo anche degli altri esempi interessanti perché questo fa parte un po' dei diversi aspetti della trasformazione digitale che sta avvenendo con un ritmo sempre più elevato cosa cambia la manutenzione predittiva come la interpretate voi nel rapporto con le aziende la manutenzione predittiva come è stata descritta è qualcosa di molto ampio quindi porta numerosi benefici sicuramente riduce fermi macchine è ovvio la prima cosa a cui si pensa però già si è menzionato come può ottimizzare il consumo delle materie prime come può permettermi di quando ho una macchina più performante di altre capire le differenze intervenire sulle altre e posso anche aumentare proprio la qualità del servizio offerto end to end ad esempio anche riducendo i costi di intervento perché quando io posso pianificarli ottimizzo magari l'intervento delle squadre poi la manutenzione predittiva fa parte di una visione più ampia della trasformazione digitale perché è chiaro che poi ci sono tante altre tecnologie che le possono valorizzare ancora di più questa manutenzione predittiva Giulia Baccarini ha fatto un'esperienza internazionale perché è stata in Giappone in Corea poi è tornata in Italia per lanciare la sua società e ha iniziato a lavorare su un'idea che non riguardava direttamente le macchine ma il corpo umano ce la vuole raccontare Sì beh io ho lavorato un po' diciamo tutta la vita nel tema delle analitiche predittive quindi come utilizzare i dati per prevedere il prossimo futuro la mia tesi di laurea era appunto una sorta di maglietta della salute dove grazie a tre accelerometri triassiali si poteva prevedere la caduta di un anziano prima dell'impatto l'idea era quella di poter poi annettere una sorta di airbag che limitasse i danni della caduta che oggi è la prima causa di ospedalizzazione nei soggetti anziani e quindi poi di decadimento delle capacità fisiche e anche intellettuali se vogliamo e a seguito di questo sono andata in Giappone dove ho lavorato sempre nel tema delle analitiche predittive prima per il diciamo pubblicità e marketing e poi per l'industria analitiche predittive ci aiuti a tradurre anche questo termine cosa sono degli algoritmi che riescono a prevedere in questo caso i guasti o quando succedono degli incidenti o cose di questo genere sì oggi quando parliamo di manutenzione predittiva vedo due strade parallele la manutenzione predittiva che si basa sui dati fisici quindi tipicamente sui dati di vibrazione della macchina e la manutenzione predittiva fatta attraverso degli algoritmi soprattutto diciamo attraverso il machine learning dove vado a prendere diversi dati dal campo e con questi riesco a prevedere il prossimo futuro sono cose più difficili a dirsi che a farsi perché in realtà oggi riusciamo molto bene a prevedere difetti meccanici o elettrici con preavvisi di sei mesi prima addirittura questo è l'orizzonte che questa manutenzione predittiva consente di avere sì fumagalli proprio così è più difficile a dirsi che a farsi e quello che manca è probabilmente il coraggio di alcuni di scommettere sulle tecnologie di provare le soluzioni esistenti e di investire in questa possibilità perché tradizionalmente le aziende stentano a cambiare e soprattutto nella manutenzione dove la sicurezza è molto importante tendono ad essere più tradizionali a volte ma questo è come dire è basato anche sulla vostra osservazione i dati dell'osservatorio sì noi dal 2011 al 2015 abbiamo raccolto una serie di informazioni su un campione di circa 300 aziende a livello italiano di diverse di diverse dimensioni su tutto il territorio il territorio nazionale e i dati che abbiamo raccolto raccontano proprio di questo una situazione a velocità differenti in diverse realtà realtà industriali alcune più avanzate che riescono a cogliere queste opportunità e altre che per una serie di ragioni non riescono a digitalizzarsi non riescono a investire in queste soluzioni e a fare quel passo quel salto di qualità è un tema di comprensione delle tecnologie abilitanti ed è un tema anche di ingegneria è un tema di capacità di interpretare le informazioni e saperle trasformare in decisioni organizzative ma questi dati arrivano al 2015 noi raccontiamo settimana dopo settimana l'impatto anche del piano 4.0 del governo degli incentivi fiscali dell'iperammortamento siete convinti che siamo così indietro oppure nel corso di quest'anno in cui diverse cose si sono messe in moto anche dal punto di vista manutenzione predittiva è cresciuta la conoscenza i progetti gli investimenti sta cambiando sta cambiando tanto sicuramente la situazione alcuni adesso conoscono il termine manutenzione predittiva si interessano si documentano e poi probabilmente hanno bisogno di fare una serie di passaggi ulteriori per rendere dall'investimento tecnologico la soluzione che vanno a realizzare funzionante nell'arco probabilmente del prossimo anno e nel prossimo anno vedremo spero voi che lavorate su questo fronte che idea avete della situazione com'è la temperatura delle imprese da questo punto di vista voglio dire una cosa innanzitutto è una trasformazione che sta accelerando parecchio quello che vediamo è proprio che c'è in questo momento un trend esponenziale anche in Italia e uno dei motivi principali per cui ciò sta avvenendo sono l'agevolazione il contesto economico e il cloud perché con il cloud uno può anche se è una piccola azienda accedere esattamente alla sua tecnologia è stato menzionato il machine learning l'intelligenza artificiale della NASA di una multinazionale una piccola azienda possono accedere alla sua tecnologia che è importante volevo inoltre riprendere l'esempio molto bello del wearable perché manutenzione predittiva è anche predittiva nell'occhio di infortuni quindi un tema fondamentale come queste tecnologie possono permettere in modo importante di ridurre i rischi sul lavoro di diminuire gli infortuni perché i wearable sono un esempio se la macchina si ferma prima di rompersi magari quando si rompe è pericolosa secondo il tipo di guasto ad esempio usando i servizi cognitivi quindi il modello le macchine che con l'intelligenza artificiale riconoscono gli oggetti riconoscono i suoni in parlato posso avere una macchina che mi riconosce se non sono un tecnico abilitato si ferma posso avere se voglio con delle telecamere una capacità di calcolare che una scala appoggiata a mano può cadere o che un macchinario non è utilizzato in modo opportuno e quindi tutti infortuni si possono prevedere come dicevamo all'inizio attenzione non è soltanto un discorso che riguarda le macchine che si parlano tra di loro riguarda anche l'interazione nelle aziende nei luoghi di lavoro tra gli uomini e le macchine riguarda l'efficienza riguarda la riduzione degli sprechi riguarda un modo diverso di far funzionare gli impianti Moresco è anche nella vostra esperienza questo anche nella vostra esperienza riprendo il tema della sicurezza sul lavoro che è fondamentale noi abbiamo sviluppato un'applicazione che viene installata sui smartphone di tutti i dipendenti l'abbiamo in uso adesso a circa 30.000 dipendenti nel mondo dei 135.000 che occupiamo è un'applicazione per monitorare tutte quelle che sono le situazioni di rischio sul lavoro quindi gli hazard i cosiddetti i near miss e abbiamo visto come ci sia una stretta correlazione tra una reportistica delle situazioni di potenziale rischio e la riduzione degli infortuni questo tipo di applicazioni sono applicazioni digitali che aiutano proprio a migliorare la sicurezza sul lavoro alcuni clienti stanno scommettendo con noi proprio su questo tema e da centri di controllo remoto si possono dare servizi nuovi proprio a vantaggio anche della sicurezza i dati da gestire ci sono le tecnologie abilitanti ci sono vi faccio un esempio pratico in Italia abbiamo una potenza installata di circa oltre 100 gigawatt il paese poi si sostiene con una domanda dipende dalla stagione di 50 gigawatt ABB ha sistemi di controllo installati in Italia per coprire con referenze tra impianti che sono in servizio e impianti che sono in conservazione circa 60 gigawatt questa è una base dati fondamentale per lavorare all'ottimizzazione degli impianti gli impianti non lavorano più come lavoravano in passato in passato determinati impianti erano pensati per lavorare a pieno carico praticamente adesso ci sono necessità diverse gli impianti sono chiamati a shutdown e a start up più frequenti e la cosiddetta smart grid di cui abbiamo parlato tutti i componenti sono soggetti a delle sollecitazioni diverse quindi la manutenzione predittiva è fondamentale proprio per andare a rilevare le condizioni degli apparati allungare la vita degli stessi in modo tale da andare poi ad aiutare i clienti proprio anche sulla produzione Giulia Baccarini è importante prevedere i guasti i problemi anche per il tema sicurezza sì sicuramente il tema sicurezza è importante io credo che la predizione intanto sia solo il primo passo di un processo prevedere che succederà qualcosa non è sufficiente noi dobbiamo prevederlo diagnosticarlo e poi portare a risoluzione quindi in realtà secondo diciamo quanto facciamo in Nipu la figura del data scientist non è una figura o non soltanto una figura matematica o statistica è una figura di qualcuno che conosce bene il processo e il dominio quindi è un ingegnere meccanico un ingegnere energetico quindi non sta lontano dal processo produttivo da dove poi succedono le cose fornendo soltanto le sue indicazioni le sue previsioni assolutamente no stare lontani dal processo produttivo significa eventualmente prevedere ma dire a un imprenditore attenzione guarda che succederà qualcosa non porta questo grande vantaggio l'interesse è dire attenzione che tra sei mesi si romperà il cuscinetto lato copiato del motore numero 4 questo è un vantaggio siamo a quel livello anche nei vostri impianti assolutamente sì quello è il livello l'attenzione che si deve avere anche rispetto alla sicurezza dal punto di vista cyber security perché poi ogni elemento che abbiamo un campo che consente di monitorare una situazione va anche protetto e in questo senso noi stiamo investendo tanto sul fronte della protezione delle infrastrutture critiche impianti che producono energia così come impianti di distribuzione dell'acqua noi stiamo realizzando il sistema di controllo di tutta la rete idrica di Ocimin parliamo di circa 33 mila chilometri di rete idrica che serve 8 milioni di persone pensate alla quantità di elementi rilevanti di sensori installati che ci consentono di gestire l'intera rete idrica è ottimizzare le perdite è fondamentale che questi sistemi siano protetti dal punto di vista della cyber security e in questo senso c'è un investimento forte da parte del nostro gruppo e dei partner che ci affiancano nell'applicazione proprio per essere al sicuro questo è il motivo per cui dicevamo all'inizio attenzione manutenzione preditiva è un concetto largo ma non riguarda soltanto gli impianti delle aziende più tradizionali qui stiamo parlando delle smart city sostanzialmente stiamo parlando delle smart city pensiamo al settore dei trasporti ci sono tanti scenari che si ipotizzano ma quelli più consolidati vedono entro il 2030 il 50% dei veicoli full electric quindi sarà importante avere un'infrastruttura di ricarica per gestire questi veicoli in Italia abbiamo circa 39 milioni di veicoli ipotizziamo al 2030 quindi 20 milioni di veicoli elettrici sulla rete che sono un impatto per la rete ma sono un'infrastruttura da proteggere cioè la colonina da ricarica va gestita dai centri di controllo che devono essere sicuri devono essere sicuri gli elementi in campo sicure le reti e sicure le sale controllo e quindi l'impegno forte è in questa direzione questo concetto è molto bello che fa capire come l'indice 4.0 la manutenzione predittiva che è un di cui può anche di fatto generare nuovi scenari di business quindi non è solo un fatto di fare meglio quello che facevo prima con meno costi meno fermi macchina meno utilizzo materie prime e tutto quello che è stato detto questo può anche proprio generare dei nuovi scenari di business faccio un esempio ThyssenKrupp che fa Scensori un'azienda tedesca con cui stiamo lavorando li vendeva quindi lei vende gli ascensori un prodotto ma l'attenzione predittiva ha iniziato a dire io posso anticipare la riparazione poi passaggio successivo è nei prossimi decenni si prevede che 3 miliardi di persone verranno a vivere in città oggi già circa 200-300 milioni di ore all'anno vengono perse per aspettare ascensori che sono fermi per qualche problema quindi passaggio è io per l'attenzione predittiva posso offrire un servizio diverso di qualità ed è un mezzo di trasporto per appunto l'ascensore e se è in un ospedale o se è un parcheggio offre un servizio diverso quindi io a un certo punto ThyssenKrupp non vendo più l'ascensore offro dei servizi con delle garanzie di prestazioni che posso garantire per con la manutenzione predittiva quando poi la faccio ThyssenKrupp manda le persone con gli HoloLens quindi con dei caschetti di realtà mista che permette al tecnico che va sul campo di avere con degli ologrammi dagli esperti in altre città remote che lavorano con lui che interagiscono e tutto ciò fa sì che la manutenzione predittiva diventa nuovo modo di fare business strategico addirittura assolutamente questa è una delle cose più interessanti di tutto il 4.0 la possibilità di riguardare al proprio business e di rivoluzionarlo in maniera importante ma quali sono gli sviluppi voi che lavorate su questi algoritmi e il trattamento dei dati quali sono gli sviluppi più interessanti che abbiamo sentito parlare adesso di città delle auto elettriche anche l'infrastruttura di dati che dovrà consentire alle auto che si guideranno sempre di più in maniera autonoma è di fatto un modo di prevenire di prendere delle decisioni che sono guidate da algoritmi ma sì mi piace riprendere l'esempio delle smart cities perché esiste all'interno del gruppo Mipo un'azienda si chiama di Energy Audit che ha realizzato un algoritmo grazie al quale sulla base di dati già disponibili nelle nostre città o nei nostri quartieri posso prevedere quale sarà il fabbisogno di acqua potabile in quale momento e così andare a intercettare ad esempio dove ci sono fughe o eventuali frodi quindi perdite nella rete di distribuzione e come purtroppo sappiamo l'Italia ad esempio è un paese dove tra l'acqua che viene estratta e quella che poi riesce ad arrivare al rubinetto esistono differenze anche del 40% con punte del 70% qui non bisogna andare a Ocimin come hanno fatto loro che stanno lavorando in Vietnam per rendere più efficiente anche l'acquedotto e la rete idrica anche qui ne avremo molto bisogno ne avremo estremo bisogno e mi fa piacere di dire che una tecnologia un software italiano sviluppato da ragazzi italiani è stato acquistato per esempio dal governo della Corea del Sud quindi che diciamo anche da noi esiste una buona creatività e anche una buona tecnologia e l'Italia è un paese esportatore non solo di food fashion e furniture ma anche di tecnologia ma fumagalli qui in Italia invece le pubbliche amministrazioni le società che adesso sono anche miste non solo pubbliche che gestiscono queste reti vanno in questa direzione oppure sono ancora come dire alla manutenzione del prima del 4.0 no no le società soprattutto quelle che si occupano di infrastrutture vanno in questa direzione perché proprio già per la capillarità che hanno dei loro impianti sul territorio sono dovute andare in questa direzione per supervisionarli e per controllarli e forse sono state anche tra le prime che in qualche modo hanno colto questa occasione poi è chiaro anche lì vale un distinguo ci sono società e società sicuramente chi gestisce i reti di energia elettrica si è trovato avvantaggiato chi gestisce i reti di infrastrutture di telecomunicazione anche chi gestisce i reti acqua si è trovato di fronte magari a problemi più hard più concreti e più meccanici prima che dell'analisi dei dati però gli investimenti ci sono lo sviluppo c'è e la distinzione secondo me non è tra pubblica amministrazione e pubblica di aggiungere qualcosa parliamo spesso e giustamente dei grossi gruppi piuttosto che della pubblica amministrazione mi piace di ricordare che tra tanti i nostri clienti sono aziende italiane anche di media o piccola dimensione la Villani Salumi che appunto fa degli ottimi Salumi è un'azienda familiare che sta rivoluzionando la maniera di fare manutenzione con la manutenzione predittiva e i modelli predittivi applicati ai dati energetici la Cereal Docs che è un'azienda del Padovano che sta facendo altrettanto sono aziende di media dimensione di carattere familiare ma che davvero hanno un occhio al futuro al padre di questi gruppi zero queste nuove tecnologie che sono state appena descritte perché di fatto sulla parte informatica intelligenza dei dati machine learning poi arriviamo all'intelligenza artificiale fino a un po' di anni fa si erano grandi investimenti l'ata center locale tecnologia locale quindi magari le multinazionali tedesche americane o altre hanno investito molto di più e magari le aziende italiane sono anche rimaste un po' indietro perdendo in competitività con queste nuove tecnologie di fatto in cloud con machine learning io posso veramente aziende italiane fare un salto generazionale quindi saltare quella generazione di tecnologie che costava tanto e che magari solo le multinazionali tedesche si permettevano o americane faccio un salto con la tecnologia nuova lì diciamo c'è un'integrazione veloce io accedo e diventa fondamentale il made in Italy la capacità creativa perché quando io la tecnologia ce l'ho tant'è vero che da Microsoft con un tempo era un pc su ogni scrivenia in ogni casa e direi più o meno ci siamo oggi è democratizzare l'intelligenza artificiale cosa vuol dire alla fine renderla disponibile alle piccole aziende alle medie aziende oggi l'Italia si può fare tutto ciò e quindi è un'opportunità incredibile nel settore che gestisco quindi Power Generation Water proprio per fare un esempio pratico abbiamo circa 700 fornitori qualificati che sono piccole e medie imprese che portano degli esempi di tecnologia complementari alla nostra che poi esportiamo il 67% ormai della nostra attività è oltre confine e questo rapporto solido anche con le realtà locali è fondamentale riprendo il punto delle smart city perché è molto interessante la sfida a mio avviso perché in Italia abbiamo tantissime competenze a livello verticale basta pensare al settore dell'acqua al settore dell'energia dei rifiuti della gestione portuale la sfida di domani è quella di aggregare i dati noi stiamo cercando di supportare le città con progetti ad esempio dei distretti intelligenti di riqualificazione urbana proprio nel realizzare delle sale controllo delle control room of the city come quelle che stiamo vedendo passare in queste immagini sostanzialmente esatto questa è il MOSE di Venezia e proprio sale controllo che consentiranno che cosa? di monitorare dei key performance indicator e poterci dare delle chiare indicazioni in merito alla sostenibilità di quell'area alla competitività alla qualità della vita delle persone che vi abitano e vi potete immaginare che poterlo farlo è necessario integrare dati integrare informazioni e anche saper prevedere proprio nel dettaglio tutti questi processi quanto siamo lontani da questa realtà? la tecnologia è vicinissima bisogna stimolare un rapporto con le istituzioni ancora più importante bisogna stimolare anche dei cambiamenti legislativi che possono favorire nel nord Europa queste cose si fanno le nostre tecnologie le stanno utilizzando e possiamo farla anche in Italia Magalli dove sta l'Italia nel confronto internazionale da questo punto di vista? l'Italia sta messa bene se non siamo non siamo così è una buona notizia noi abbiamo sviluppato noi abbiamo sviluppato una ricerca con degli indicatori di maturità di readiness alla digitalizzazione quindi quando siamo pronti ci sono davvero tante 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 eccellenze tante eccellenze da cui da cui prendere esempio quindi oltre a guardare all'estero perché poi come diciamo come abitudine di paese ci piace guardare all'estero e quindi sicuramente negli Stati Uniti ci sono soluzioni interessanti dobbiamo anche guardare a soluzioni ottime che che realizziamo in in casa nostra e il settore dell'energi ne è un ne è un esempio chiaro tutto quello che è anche la la produzione siderurgica con gli alti e bassi ma sicuramente in Italia vede vede dei buoni esempi degli ottimi degli ottimi casi casi di studio appunto fatti per sviluppare la capacità di analizzare i dati per comprendere il funzionamento dei macchinari i macchinari davvero complicati macchinari che fanno produzioni che servono per il bene il bene del paese e è difficile a volte comprenderli in molte aziende i macchinari possono essere compresi solo da persone d'esperienza che però forse sono oggi in un viviamo un periodo di cambio generazionale quindi dobbiamo anche saper impiazzare le persone con le nuove leve e la digitalizzazione aiuta anche questo passaggio lei citava la siderurgia forse non a caso è uno dei settori più energivori in assoluto e quindi anche la capacità la possibilità con queste tecnologie di riuscire a gestire in maniera diversa l'assorbimento di energia da parte dei macchinari è uno strumento con cui si raggiunge un'efficienza importante noi come Politecnico di Milano abbiamo fatto un progetto importante con Tenaris Dalmine proprio su un forno ad arco elettrico che è una macchina altamente energivora e siamo andati a sviluppare una soluzione insieme all'azienda per la sicurezza dell'impianto che conoscendo meglio l'impianto poi ci ha portato anche a dare una serie di indicazioni che speriamo in futuro possano essere utili anche per questo per questo tema Sì, beh l'energia entra e esce dai nostri impianti un po' come il sangue nel corpo umano c'è sicuramente un tema di interesse nel ridurre il consumo specifico il costo specifico ma l'esempio del sangue lo facevo per dire che l'energia è un vettore informativo importantissimo grazie all'energia come segnale base opportuni algoritmi e dati che sono già nelle nostre aziende si riesce a prevedere per esempio qual è il set point ottimale di un impianto oppure a pianificare la produzione in modo ottimale o intercettare inefficienze che altrimenti non avrei sotto controllo Io voglio portarvi anche a dare dei consigli pratici in sostanza come affrontare per le imprese questo mondo della manutenzione predittiva quali sono gli elementi da mettere sul tavolo quando si inizia a discutere anche con gli esperti di queste tecnologie per lei? Ma come diceva il collega prima un grosso sforzo è già stato fatto dalle aziende perché con la sensorizzazione diciamo l'installazione di molti misuratori il grosso del costo è già stato fatto Quindi quello del passaggio lo step numero uno è quello la sensorizzazione lo step numero uno è avere dei dati molti imprenditori l'hanno già fatto e quindi oggi come dire è categorico estrarre valore e creare un vantaggio competitivo con questi dati gli esempi che facevo prima sono esempi e ne ho infiniti altri di aziende di dimensione media che stanno portando dei vantaggi competitivi in casa importanti con investimenti però il passaggio successivo è quello da questa massa di dati ottenere delle informazioni trasformarle in dei messaggi dal big data al big message è così? sì io il suggerimento che mi sento di dare è di lavorare con persone che abbiano conoscenza del dominio quindi non la predittività come valore assoluto ma piuttosto la precognizione quindi prevedere conoscere e interagire stiamo sviluppando in Mipo per esempio una serie di interfacce si parla di natural language interface è qualcosa che possa a bordo macchina dire al manutentore non so devi lubrificare il cuscinetto o devi sistemare diciamo il baggiamento glielo dice se vogliamo arrivare al livello in cui la macchina glielo dice glielo dice direttamente Fumagani sì ed è proprio così l'importante poi per gli imprenditori è capire che in questo momento di passaggio e mai come adesso devono essere capaci di collezionare quelle che sono le competenze del mercato e crearsi una rete di partner affidabili con cui collaborare per crescere la tecnologia è disponibile implementarla può sembrare facile anche economico però è importante farsi aiutare dagli attori giusti assolutamente è importante il gioco di squadra se pensa anche alla serata le competenze che abbiamo a questo tavolo sono complementari bisogna essere disponibili investire e realizzare dei pilot dei pilot per anche testare nuove tecnologie in ambiti circoscritti protetti e una volta che sono testate al meglio poi diffonderle a livello industriale lei ha visto una crescita della consapevolezza e anche un po' dell'apertura delle imprese verso questo mondo anche in particolare quest'anno nel 2017 che abbiamo detto è stato sicuramente anche segnato dagli incentivi del governo c'è una crescita importante di sicuro il programma del governo ha favorito anche per le candidature sui programmi Lighthouse noi ad esempio ci siamo candidati e c'è una consapevolezza diversa rispetto al passato è importante dicevo all'inizio investire nella formazione delle persone per mantenere quelle competenze di processo necessarie e associarle alle competenze più digitali che sono fondamentali per questo tipo di percorso questo è un tema su cui noi torniamo sostanzialmente ogni settimana perché ognuna delle tecnologie che vi raccontiamo richiede anche la presenza in aziende di figure che non sono quelle tradizionali ma i tentori tradizionali hanno fatto e fanno un grande lavoro ma qui si tratta di aggiungere forse uno strato di competenze in aziende si trovano queste persone che profilo devono avere secondo voi si trovano sono diversi profili noi in questo momento abbiamo un ingegnere di Microsoft in casa con questi collaboranti ad esempio proprio su tutto il tema dei servizi avanzati che andremo a fornire dal centro remoto di controllo dal nostro collaborative operations tante cose che sono state dette le ritroviamo assolutamente nei progetti che facciamo e sono proprio delle caratteristiche secondo me anche abbastanza forti dei progetti industria IoT diciamo fatti in Italia perché come Microsoft facciamo progetti in tutto il mondo e stiamo facendo veramente tanti sull'IoT una caratteristica che io vedo personalmente spesso in Italia è che forse soprattutto nelle medie aziende piccole aziende c'è un po' meno preparazione informatica culturali all'inizio e quindi si è un po' più lenti a partire la mia verizzazione del mercato è che talvolta le aziende italiane sono un po' più caute un po' più lente di altre all'estero a intraprendere questi percorsi di digitalizzazione di indosio 4 però poi quando iniziano in questo modo quindi con dei pali con delle esperienze con i dati che già hanno perché è verissimo che i dati ci sono già spesso e non vengono usati sono riabbandonati o valorizzati in minima parte quando in Italia poi con lo spirito imprenditoriale la genialità la capacità che spesso hanno i nostri imprenditori le nostre aziende fanno il primo passo e magari ci mettono tanto o troppo a farlo una volta che lo fanno accelerano cioè salvano una volta che è partita adesso è un leader assoluto e posso fare tanti altri esempi quindi può essere un po' lenti a partire per formazione e consapevolezza però poi quella nostra imprenditorialità italiana del territorio fa sì che quando partono aziende italiane diventano leader Giulia Baccarina è d'accordo avendo visto anche un po' in giro per il mondo in paesi molto avanzati appunto Corea e Giappone quello che succede e le figure professionali che servono oggi per rafforzare le aziende in questo mondo ci sono? Quali sono? Ma io credo che abbiamo un problema di scollamento e Politecnico di Milano sta sicuramente lavorando tanto in questa direzione anche l'università Bicocca ma abbiamo bisogno di sempre più istituzioni universitarie che ci lavorino un problema di scollamento non solo a Milano ci saranno lavorando anche i Politecnici in giro per l'Italia esatto esatto un problema di scollamento tra le figure professionali di cui le aziende hanno bisogno e quelle che sono disponibili e Confindustria stima che entro il 2020 ci saranno 600.000 posti di lavoro che non sapremo a chi dare devo dire io ho 33 posti di lavoro che non so che non so a chi dare quindi voi in questo momento avete 33 posizioni aperte che non riuscite ad occupare eh sì ce l'abbiamo in realtà da inizio anno e stiamo facendo tantissimi colloqui però c'è una grande mancanza credo soprattutto di ci fa capire cosa cercate informatici informatici con conoscenza di Python ingegneri meccanici ingegneri energetici con buona conoscenza dei processi questo non è un vostro problema aziendale questo è un problema del paese questo è un problema del paese non si mette in linea ci vorranno degli anni perché riusciamo a sfornare anche le competenze giuste ma rischiamo di perdere un treno di restare indietro e che il resto del mondo dei paesi che ci fanno concorrenza in tutti i settori industriali dei servizi andranno molto più avanti che state facendo al Politecnico da questo punto di vista anni fa in tempi non sospetti il Politecnico come Ateneo ha avviato ingegneria matematica quindi eh un percorso che formava le persone a sviluppare competenze di matematica ma per l'ingegneria ingegneria vuol dire saper risolvere un problema quindi non solo per la ricerca e adesso se guardiamo quello che ha bisogno il mercato ha bisogno di queste figure e questi tipi di competenze sui data analytics le stiamo sempre più portando nei diversi corsi corsi di studio Moresco Siamo presenti in 100 paesi per accelerare questo percorso noi stiamo favorendo tantissimo la job rotation fra un paese e l'altro in modo tale da avere persone italiane colleghi italiani che vanno all'estero e viceversa e questo ci dà modo di migliorare dal punto di vista della collaborazione interna ma anche di accelerare il percorso di apprendimento anche su queste tematiche che è fondamentale competenze sono il vero collo di bottiglia in questo momento non sono tanto gli investimenti probabilmente perché l'accesso al credito per chi ha progetti sani è forse più facile di un tempo forse perché poi ci sono tante aziende che comunque continuano ad avere difficoltà ci sono gli incentivi del governo che saranno validi per tutto il 2018 ma poi davvero se non ci sono le persone che non è più attenziente cioè sono l'elemento chiave e l'Italia può offrire tantissimo può offrire tantissimo in ambito energia quello che è stato fatto lungo l'intera catena del valore per efficientare dalla power generation fino alla distribuzione passando per la trasmissione è veramente qualcosa di unico forse abbiamo peccato nella pianificazione perché sono stati fatti prima tutti gli impianti termici convenzionali poi per dieci anni abbiamo fatto cicli combinati e poi rinnovabile però abbiamo imparato tantissimo e tutto quello che abbiamo imparato in questo mix lo possiamo proporre all'estero quindi a volte pecchiamo in pianificazione ma dal punto di vista delle competenze le competenze ci sono allora io voglio nell'ultimo giro chiedervi come vedete il futuro di queste tecnologie dal 2018 in avanti dove davvero stiamo andando e qualche esempio anche di cose che in concreto ci aiutano a capire come prepararsi a questa rivoluzione Moiole siamo amici di una grande rivoluzione portata dal digitale poi dall'intelligenza artificiale che è uno dei grandi motori che trasformeranno il mondo e sicuramente una delle grandi sfide è quella delle competenze perché sempre più serviranno le competenze che sono state descritte che sono competenze tecniche quindi competenze tecnologiche ma serve sempre più anche avere un management una leadership in generale chi fa altri lavori che sappia come usare queste tecnologie nuove perché ad esempio prima si parlava di conversare con la macchina lo diceva lei oggi anzi il 20 agosto quindi qualche mese fa l'intelligenza artificiale Microsoft ha superato nella capacità di capire il parlato della dittatura non tanto i competitor che non è interessante più di tanto ma ha superato i migliori datelografi al mondo qualche mese fa ed è l'inizio di un percorso quindi sono tecnologie molto molto potenti che le persone devono sapere valorizzare per lavorare meglio per offrire un servizio migliore quindi c'è una grande trasformazione di competenze di nuovi lavori che verranno creati e che già 33 non vengono trovati oggi saranno molti di più quelli che non vengono trovati se le persone non si preparano alla trasformazione che sta arrivando ad oggi si calcola siano 200.000 le posizioni di lavoro che non si riescono ad occupare in questi settori industriali perché non ci sono le competenze giuste fumagalli però come vedete allora il futuro da questo punto di vista manutenzione predittiva non c'è non c'è soluzione si dovrà andare nella soluzione verso le soluzioni di manutenzione predittiva non c'è opzione questo sarà il futuro per essere competitivi si dovrà investire in digitalizzazione colmando quelle che sono le carenze attuali quindi trovando le figure professionali corrette trovando le 30 persone da assumere nelle aziende colmando quel gap di maturità che è fatto anche di non avere così tanti ingegneri nelle aziende anche per situazioni tradizionali anche per per lavori tradizionali colmando questo gap poi si arriverà sicuramente a poter meglio sfruttare e a poter meglio far leva sulle nuove tecnologie perché le tecnologie sono pronte le soluzioni ci sono bisogna essere pronti a utilizzarle e a sfruttarle al meglio Giulia Baccarin ma guardi io sono rientrata dal Giappone nel 2008 per cofondare insieme a due ragazzi del Belgio la prima azienda che si chiama Ikea e fa proprio manutenzione predittiva non attraverso il machine learning ma attraverso l'analisi delle vibrazioni era una cosa nuovissima avevamo 26 anni e credo che le difficoltà di portarla sul mercato le abbiamo trovate tutte comprese farvi finanziare se non sbaglio esattamente infatti noi non abbiamo nessun finanziamento né pubblico né privato io facevo la cameriera il mio socio faceva il meccanico a tempo perso nel garage del papà oggi abbiamo 200 dipendenti siamo i 9 paesi del mondo con Mipu dal 2012 insieme a mio socio cofondatore abbiamo 50 dipendenti facciamo solo analitiche predittive machine learning in Italia quindi se siamo arrivati fin qui io vedo il futuro estremamente erosio e sarà nostro orgoglio lavorare per accelerare ancora soprattutto l'industria italiana chi vi fa concorrenza quando quei 33 posti non riuscite ad occuparli qual è il principale in questo momento sul mercato centro che assorbe invece questo tipo di persone ma credo che i ragazzi come dappertutto siano molto attirati dai grandi nomi quindi sicuramente Microsoft ABD avranno capacità di attrazione più forte ecco poi in Mipu abbiamo fatto una scelta un po' particolare di tirarci fuori dai grandi centri di creare industria in Italia e cultura in Italia nei piccoli comuni noi siamo a Salò sul lago di Garda e quindi ecco anche la componente si dice qual è il settore in cui pensa che ci sarà lo sviluppo più forte o anche quello che sarà anche più vicino ai cittadini diciamo l'esperienza comune delle tecnologie di manutenzione produttiva beh la manutenzione predittiva per la pubblica amministrazione sicuramente sarebbe una cosa rivoluzionaria sono stata due settimane fa al tavolo sull'economia del dato la presidenza del consiglio dei ministri e diciamo che per la prima volta nei miei ricordi ecco vedo che anche il governo ha una fortissima attenzione rispetto a queste tematiche e dal punto di vista industriale credo che tutti i settori verranno toccati tra i nostri clienti ci sono dai supermercati agli ospedali passando per le case farmaceutiche ai salumifici quindi è veramente democratico come dicevamo prima il futuro è nelle nostre mani perché le tecnologie ci sono il mercato anche pensando all'IoT pensando allo sviluppo in ambito energetico ci sono anche nuovi elementi rilevanti da controllare non pensiamo all'e-storage parlavamo prima di colonnine di ricarica ciò mercato da qui al 2025 da 4 a 11 trillion quindi io dico il futuro è davvero nelle nostre mani dobbiamo essere bravi a investire a crescere quel percorso sulle competenze per poi poterne cogliere i frutti voi siete una multinazionale da questo punto di vista come vedete l'Italia e il mercato italiano? noi siamo una multinazionale che impiega 6.000 persone in Italia abbiamo 15 fabbriche quasi tutto il portfolio di ABB è sul territorio nazionale è uno dei paesi più importanti nel mio settore la Power Generation uno dei tre centri di competenza che ABB ha nel gruppo è in Italia è a Genova uno in Cina e uno in America quindi è un paese tra i più importanti il progetto Lighthouse vi hanno risposto siete ancora in attesa? siamo ancora in attesa e ci puntiamo tantissimo lì altro che manutenzione preditiva sui tempi delle risposte talvolta ci vuole molto ne abbiamo parlato anche in altre occasioni ringrazio ancora Danilo Moresco di ABB Fabio Moioli di Microsoft Giulia Baccarini di iCare e Mipu e ancora dal Politecnico di Milano Luca Fumagalli voi per averci seguito avete visto quanto lontano ci ha portato il ragionamento sulla manutenzione preditiva ma la prossima settimana affronteremo una nuova tecnologia vi lascio alle informazioni e agli aggiornamenti dalla redazione di Classi NBC grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti